Il nuovo anno ci ha portato il trilling di Cuba e la fine della guerra in Algeria, il probabile ingresso dell'Inghilterra nel Mecca e la probabile uscita della Cina dal blocco comunista, la vittoria di De Gaulle e la sconfitta del ministro della difesa tedesco Strauss. E il nuovo anno che cosa ci porterà? La povera gente in genere si accontenta di poco. Cosa sperate che vi porta al 1963? Eh veramente signore speriamo che andassimo un po' migliore, insomma qualche cosa migliore del 1962. Quando siete venuti a Roma? Beh ieri, abbiamo sceso ieri verso le 4 così, insomma la giornata di ieri non abbiamo lavorato per niente, abbiamo uscito un po' stamattina cominciando a suonare. Da dove venite? Dalla Bruccia. Il vecchio artigliere del Gianicolo è come sempre imperturbabile. Che cosa si aspetta dal 1963? Beh è un cannone nuovo. Beh io spero... Speri, speri, non è proibito sperare. Ti farei meno contravvenzioni? Beh no, ti farei meno contravvenzioni, spero di fare meno contravvenzioni ma perché diminuisce il traffico. Speriamo che... Beh poi non mi fate parlare. Beh, mi basta che ne prenda una al giorno, una. Che c'è a me sia che siamo tutti contenti che tutti i cancellati escono fuori. Quale sarà la linea della moda? Eh, e come vuole che gliela posso dire la linea del 63. È un mistero. Si vedrà nel mese di gennaio quando lancerò a Palazzo Fitti la nuova moda per tutto il mondo. D'accordo, ma la donna come sarà? Sarà una donna molto semplice, meno sofisticata, poco truccata, una donna semplice, elegante e molto femminile. Le gonne saranno più corte o più lunghe? Oh, le gonne non hanno molta variazione. Forse un po' più corte ma mai più lunghe. Ah, io penso che senz'altro si allungheranno di qualche centimetro. Ma perché sono troppo corte? Beh, direi di sì, un pochino. Qualcuna nel dubbio le gonne le ha eliminate. Che cosa conta di fare nel 63, signorina? Spero, re, di lavorare senza rete. I desideri degli androbati sono assai più semplici dei loro esercizi. Adesso faccio una scala di mattoni. L'anno prossimo faccio una casa di mattoni. Diventare alto, 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 alto. Piccolo, piccolo, piccolo. E spererei tanti giocattoli per i bambini buoni. Tanti, tanti. Niente, desidero soltanto risale così. Ah, sia contento di questo? Bene, sì. Il 62 gli è andato bene. È abbastanza bene, insomma. Spero che gli autisti siano più disciplinati, così la circolazione potrà migliore. Potrà migliorare, insomma. E lei? Un po' di soldi. Beh, sta una vetrina un po' più grande perché non mi posso muovere qua dentro. Un marito. Spero nel divorzio. Dopo 42 anni di matrimonio cerca il divorzio. E' detto no. No. Signora, mi dica che cosa spera per i gatti nel 63? Si volti. Non va al rifugio. Un bel rifugio. Per i gatti? Si. Perché un bel rifugio? Eh, perché almeno che abbiano la comodità di avere l'acqua è necessario per vivere. Eh, mica devono avere... E vi stanno male? Qua, eh. Sotto le macchine ce ne vanno spesso, spesso, caro mio. Se vedessi che macello. Gatti a parte, questo è quel che la gente spera dal 63. In fondo è davvero poca cosa. Grazie.